Un rubinetto che prima perdeva e ora ha pareggiato. Olè! Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di... Eh, di nuovo... Non è una puntata di niente. È un video così. Come l'avete letto dal titolo, quello che proverò a fare sarà una cosa molto particolare. Cercherò di fare questa cosa con Cortana. Prova a inna... Ricordami di anna... Mi dispiace, non ho capito. Veramente nemmeno io. Ciao, come va la vita? Ecco alcune informazioni che potrebbero esserti utili. Oh, stavo chiedendo a te. Come va la vita a te? Ecco alcune informazioni che potrebbero esserti utili. Cortana, quanti anni hai? Sono nata il 2 aprile 2014. Quindi è più piccola di me. E perché c'ha sta la voce? Vabbè, so che è una cosa irreale. Alla fine stiamo parlando con un computer. Come disse Dante, sono al settimo cielo. Io sono per terra. Ora sono con i piedi sulla sedia, se permetti. Cortana, dimmi una barzelletta. La maestra. Pierino, il tuo tema è molto oscuro. E Pierino risponde. E allora accenda la luce. Dimmi un'altra barzelletta. Come finisce una favola di due cioccolatini innamorati e vissero felici e fondenti. Oh mio Dio, mi sta venendo fame. Bocca a te Cortana. Perché un chiodo non gioca mai in nessun modo? Perché viene sempre battuto. Ho due cani, due aschi per l'esattezza. Uno bello e uno brutto. E insomma, ho un aschi bello e una schifezza. All'ultimo, quando ha detto e una schifezza, ma come l'ha detto, sembrava Ellie ad la sto vaso, non so per quale motivo. Comunque, apro sta parentesi, non vedo l'ora che esca la sto vaso parte 2, che sarà una bomba. La mamma dice a Pierino, sei andato a comprare lo scolapasta che ti ho chiesto? E Pierino risponde, sì, sono andato a vedere, ma erano tutti pieni di buchi. Qual è la differenza tra lattuga e montagna? La lattuga è insalata, mentre la montagna è insalita. No! Qual è l'animale che sta da tutte le parti? Là, qui, là. Fa avanti e indietro. Là, qui, là. Non impazzisce? Là, qui, là. Un daino dice a un altro daino, dai, giochiamo a nascondaino. L'altro daino risponde, dai, no, plic, plic, olè! Cos'è? Un rubinetto che prima perdeva e ora ha pareggiato. Con era morbido, per su, che sovrasta tutti, per Cassano, palla dentro, ancora, per il solo, per 4 a 4, che gol! Ancora la stica a se, questa vita non finisce mai! Io e la cara Cortana vi salutiamo, spero che, speriamo che questo video, speriamo tutte e due, insieme, amici, per la pelle. Noi ci vediamo con i prossimi video. Cosa dicono due casseforti che si incontrano? Che combinazione! Oh mio Dio! Due pulci escono dal cinema. La pulce maschio dice, cara, andiamo a piedi o prendiamo un cane? Le pulci vanno in giro, trovano un cane e lì riprendono un passato. poi magari lo appagano pure. Vabbè, ciao! 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 Ciao!